eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri no lo lascio dire a voi questa volta e vai che cosa ragazzuoli belle ragazzuole belle scusate se ci stiamo un attimino la camp partiamo a razzo buona serata volevo farvi la sorpresa di questo giovedì 23 novembre 2023 per cui 23 23 ore 19 e 18 minuti ore 7 18 minuti pm per l'orario internazionale abbraccio sempre tutti voi che mi guardate dall'estero siete dei tifosi rossoneri speciali anche voi ragazzi però dobbiamo stare tutti uniti perché qui è un disastro l'avete visto il titolo e la copertina che ho fatto anche ocafor lo sapete ormai già tutti infortunato bene andiamo avanti così allora io lo dico qui e lo dirò per sempre adesso vogliamo sapere cosa ha capito furlani della situazione preparazione atletica dell'estate scorsa ed inizio campionato perché lo sapete no furlani ha fatto un meeting con piolle con sua staff io voglio saperlo forse anche voi noi lo vogliamo sapere perché ora di finire questa storia voglio subito precisare una cosa visto che oggi ho letto nel mio instagram non me lo aspettavo da un mio follower vabbè io ti invito caro amico a tutti voi vi invito a ragionare con calma e no ma ocafor si è fatto male con nazionale allora svegliatevi i testini di azucchina il concetto è solo uno ocafor come tutti i giocatori di calcio di cui loro cartellino appartiene al club in cui giocano e militano durante il resto dell'anno e non sto parlando dei nazionali per la maggior parte del loro tempo per la maggior parte del loro tempo ocafor e tutti i giocatori di calcio si preparano fisicamente all'interno del proprio club ergo se il proprio club non affronta bene la preparazione fisica insieme preparatori insieme medici vengono fuori disastri poi in nazionale hai capito testina avete capito per cui non iniziamo a sfoderare la carta praticamente le nazionali rovinano i giocatori perché colpa anche dei club discorso diverso come per il talentino del barcellona discorso diverso quando il giocatore purtroppo subisce un bruttissimo fallo su azione in campo da un giocatore avversario avete capito per cui cerchiamo di non trovare le scuse sempre scuse di tutto il mondo la verità è solo una che io sono letteralmente schifato da questa situazione il mila nostra proprietà ci deve dare una spiegazione perché noi tifosi investiamo passione tempo e soldi questa è la verità punto a capo la nostra passione il nostro amore per il mila non cambierà mai ma questi dove cosa cavolo stanno facendo gery cardinale cerchiamo di porre rimedio a questa situazione perché ora di finirla qua che poi pioli non deve essere poi sta storia pioli c'è ancora il contratto di una no pioli alla fine della stagione sia che vinca la seconda stella sia che vinca la champions league sia che vinca l'universo questo se ne deve andare punto a capo allora passiamo subito al succo del discorso presto che tardi perché veramente tardi 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 se non riesco più a caricare il video sabato 25 novembre lo sapete tutti ore 20 45 8 45 di sera mila fiorentina giochiamo praticamente mezzi a zoppati ma speriamo di farcela il modello sempre il solito 433 magnani in porta calabria tomori ceo teo ornandez musa rainders pobega ciocqueza jovic e pulisic che il signore ce la mandi buona che gli astri ce la mandino buona praticamente forse la pretatica per l'auto chic ma l'auto chic oggi si è scoperto che sta bene questa mattina si è allenato in gruppo così come si è allenato in gruppo anche ceo che ritorna dall'influenza pulisic è completamente recuperato lo sapete l'ho letto adesso deve partire dal primo minuto contro la fiorentina chi invece sarà fermo minimo due partite alleluia niente allora praticamente ocafor l'abbiamo perso esattamente con la sua nazionale svizzera contro romania ha evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra allegria delle allegrie e praticamente in panchina scusate il continuo intercalare praticamente gioca camarda il nostro grande camarda il nostro sedicenne praticamente guardate io vi dico qua va a finire come come quell'altro lì il portiere cioè praticamente molto probabilmente speriamo io lo spero veramente scopriremo veramente qualcuno che farà faville e questo potrebbe essere proprio camarda me lo auguro per lui perché se lo merita 16 anni il nostro attaccante della primavera allenata da ignazio abate italianissimo camarda e oggi si è allenato la prima squadra e praticamente come vi ho detto sarà in panchina ragazzi la situazione è tragicomica io la definisco tragicomica sul discorso degli infortuni io non ho più parole la mia voce la farò sempre sentire perché qui veramente cioè facendo così non so dove potremmo andare non lo so io vi dico la verità è tutto è tutto in movimento è tutto liquido è tutto è tutto un casino ragazzi è tutto un casino perché con questi infortuni con questa preparazione non lo so ma cosa stanno combinando io veramente ma non lo so ma ci dovrebbero dare una spiegazione anche a noi della serie si abbiamo capito che abbiamo fatto degli sbagli correggeremo il tiro e poi dare un segnale forte dai real madrid ha licenziato il capo preparatori in tre secondi fruentino perez non c'è non c'è impiegato un minuto qua noi dobbiamo sempre giustificare tutti no è bravo poi ti becchi quelli come ambrosini con rispetto parlando tutti gli altri no io frambati quell'altro lì ambrosini ma ambro anche tu cosa ti metti no fiducia totale pioli bravissimo un grande allenatore fantastico per fortuna si sono dimenticati del suo staff cioè preparatori vice tutto il resto perché ci mancava mo che adesso anche tutti gli altri che praticamente non riescono a guarire questi problemi muscolari nostri giocatori diventassero anche dei fenomeni come pioli quello che dicono gli altri è che sia chiaro e non fatevi convincere tutte queste parole perché parliamoci chiaro se no mi girano subito i tre quarti ragazzi poi vi do una notizia extra extra milan e praticamente qui il vostro alex come al solito una zecca sempre coloro coloro che mi seguono da tempo lo sanno io dissi volete vedere che l'inter rimane a san siro e noi ce ne andiamo a lì a cosa via a san donato milanese anche se io vi dico la verità no scusate una pausa di riflessione ho avuto a me sta venendo in mente una cosa ma non è che c'è la possibilità che il ritorno balza in avanti ancora sesto san giovanni ma vedremo perché anche lì a san donato milanese c'è un po' una situazione scottante gianni ferretti chi è gianni ferretti gianni ferretti il sindaco di rozzano dove l'inter praticamente vuol farlo stadio oggi ha dichiarato questo ed è importante ricordarlo a proposito avete sentito del di exor exor sgancia ancora 200 milioni di euro per far andare avanti la juventus perché se no e avete letto la storia dell'inter anche loro in crescita di fatturato ma i conti i debiti sono fortemente altalenanti e vanno sempre più giù 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 per cui zanga sta cercando soci perché qui come il milan non c'è nessuno in italia in italia non c'è la mazza nessuno noi siamo al top fra le prime dieci squadre più ricche più virtuose virtuose vuol dire con un utile di bilancio in assoluto in europa e nel mondo allora il sindaco di rozzano dice questo gianni ferretti oltre a sesto secondo me nemmeno milano ancora fuori dai giochi per lo stadio nuovo e credo e questo è l'argomento stadio nuovo e credo che alla fine una delle due squadre potrebbe rimanere lì potrebbe rimanere lì chi ve l'ha detto chi ve l'ha detto tempo fa tempo mesi e mesi e fa chi ve l'ha detto chi è chi è il bestiolino che ve l'ha detto chi è chi è chi è che ve l'ha detto sono io per quello che mi devi seguire svegliati iscriviti se sono nuovo no poi se ti sto su le balle un altro discover sono non iscriverti vai da qualche altra parte non mi interessa fai quello che vuoi allora guarda gianni ferretti argomento numero quattro oltre a sesto secondo me nemmeno milano ancora fuori dai giochi credo che alla fine una delle due squadre potrebbe rimanere lì io l'ho sempre detto l'inter si terrassa al silo vedrete che andrà a fine così perché questo non c'è ogni soldi questa è la verità troppi debiti come fanno a costruire lo stadio credo che l'inter prenderà in considerazione tutta una serie di variabili che potrebbero essere le strutture i trasporti la verità sì il caro sindaco di rozzano il caro inter quello che vi dico io se il bilancio non quadra devi fare di necessità a virtù ti tieni san siro loro strutturi con 350 400 milioni di euro finanziati in 50 anni e sei a posto basta il vostro alex non sbaglia un colpo forza mina sempre comunque ovunque ragazzi ci dobbiamo fare forza perché qui la situazione infortuni è tragicomica ciao